Ciao a tutti, sono qui per parlarvi brevemente di un progetto artistico che si chiama YAMO, Yaya e Momo, due artiste appunto. Che cosa è YAMO? YAMO è l'universo artistico in cui nascono nuove canzoni, nuovi racconti, nuove interviste, nuove visioni, nuova arte. Se volete saperne di più potete cliccare sul link che trovate qui e dove volendo potrete fare anche una piccola donazione, o anche grande, enorme, insomma, di vendere a voi. Tutto chiaro allora? Ok? Ciao! Sosteniamo l'arte!